Cari amici del gruppo imprenditori d'eccellenza, eccoci qua a fare un po' di considerazioni sul sondaggio che è stato mandato. È stato mandato il 22 settembre su quelle che sono le attività che è giusto fare sostanzialmente. Hanno risposto circa 150 imprenditori e l'attività principale che un imprenditore deve svolgere si è rivelata ma con grandissima maggioranza definizione della strategia. Subito dopo viene sviluppo della partnership che comunque è dentro il discorso strategia e subito dopo ancora controllo finanziario, controllo economico finanziario. Queste sono le priorità assolute in cui ci dobbiamo concentrare perché da queste poi derivano tutte quante le altre. Viene dopo il discorso della delega, viene dopo il sviluppo del prodotto, insomma vengono dopo tutte quante le altre. Io immaginavo un discorso di questo genere ma è giusto confrontarci e condividere. Questi sondaggi quando cominciano a essere 150-200 imprenditori che esprimono il loro parere, cominciano a essere anche di portata interessante. Ne faremo veramente di frequente, mi auguro che partecipiate tutti quanti, il maggior numero possibile, perché è un contributo al gruppo veramente interessante. Veramente interessante perché è un campione rappresentativo, oramai fra poco supereremo anche i 2000 imprenditori dentro il gruppo e cominciamo a sfornare e condividere delle cose veramente interessanti. Buona giornata a tutti quanti e buon lavoro nella vostra azienda.